Alex prepara l'occorrente per fare un super massaggio a Soleil, mette l'asciugamano e poi sistema bene il tutto. Sparge l'olio e inizia il massaggio professionale. Soleil si lascia andare a relax. Alex Belli oltre ad essere un regista e attore oggi è anche massaggiatore personale di Soleil. Dopo l'attrazione artistica Delia deve vedere anche questo. È proprio uno strano rapporto in loro. Alex e Delia possono fare tutto quello che gli pare ovviamente. Ma non parlino d'amore però. Perché tra Alex e Delia non c'è amore. E neanche rispetto a questo punto. Canale YouTube Fabio Pecce